Musica Benvenuti a un nuovo video di Sistemi Italiano Buonasera a tutti quanti, buona domenica Oggi vado a rispondere a una domanda di Luca Cesana Che ha problemi a usare le work folders Ovvero le cartelle di lavoro detto in italiano Però ho pensato di fare un video più completo Cioè, dato che non ho trovato in nessuna documentazione Microsoft La conferma che il work folder sia utilizzabile all'esterno di un dominio Quindi sui server stand alone E' nata la necessità di dover per forza creare un ambiente di dominio Allora, a questo punto faremo una dimostrazione su Windows Server 2019 Che è domain controller Quindi faremo anche la creazione del dominio del domain controller E poi l'installazione del ruolo di work folders Quindi un video molto più completo Che, diciamo, può essere usato per due scopi O per chi deve semplicemente mettere in piedi un controllo di dominio 2019 Oppure chi deve fare solo le work folders Le work folders non devono per forza stare sul domain controller Possono stare su un altro server membro di dominio Perché io non sono riuscito a farlo funzionare in un server non membro di dominio Però, diciamo, può stare anche sul domain controller Quindi questo video può essere preso sia come solo domain controller Sia come solo work folders Oppure con entrambi, diciamo, i ruoli E quindi andiamo al problema Diciamo che cosa sono innanzitutto le work folders Le work folders sono un ruolo, diciamo, di Windows Che, praticamente, consente agli utenti Di utilizzare le proprie cartelle, diciamo, condivise Comunque delle cartelle che può scegliere l'amministratore Sia in ufficio, sia a casa, sia in qualunque altro posto del mondo Collegando le work folders al proprio pc Praticamente da qualunque workstation Da qualunque computer, anche che non è a dominio Si possono collegare le cartelle di lavoro che stanno sul server on premise Cioè in sede Tramite una funzionalità di Windows 10 Utilizzando, ovviamente, una URL unica E crittografata perché in SSL Che punta al server work folders In pratica è un po' come avere i file in cloud In realtà non è altro che una sincronizzazione Dei file che stanno sul pc In una determinata cartella Con la cartella di lavoro che stanno sul server work folders In questo video andremo a vedere Come implementare un controller di dominio E quindi, poi, come installare il ruolo work folders Che servirà poi a chiunque Per collegarsi alle proprie cartelle di lavoro E sincronizzare i file Andiamo alla soluzione Eccoci qua Lavoreremo su due macchine Allora, il server Windows 2019 Che è questo qui, che è in cloud Come vedete è su Amazon Questo è l'IP pubblico Questo è l'IP privato Noi ovviamente lavoreremo sull'IP pubblico E poi lavoreremo su questa macchina Che è un client, il mio notebook Che sta qui a casa mia Quindi è un notebook Che assolutamente sarà fuori dal dominio E vi farò vedere che potrà tranquillamente aprire le work folders Allora, la prima cosa da fare ovviamente È cambiare il nome al server Perché noi vogliamo che sia un controllo di dominio Ma in ogni caso è sempre meglio cambiare il nome Rispetto a quello che gli da Amazon E gli metteremo come nome qualsiasi Dovremmo mettere DC01 perché è un domain controller Però io lo chiamerò work folders Non c'è nessun problema a fare questo Purtroppo questo richiede un riavvio E quindi andiamo a riavviare Ok, dopo il riavvio Andiamo ad aggiungere il ruolo domain controller Quindi andiamo su server manager La prima cosa che voglio fare È disabilito il firewall Anche se sapete meglio di me Che è una cosa che non va fatta Ma io per facilità lo disabilito Poi chiaramente voi dovreste solo aprire le porte Fatto questo andiamo a fare un add role in features E andiamo a mettere next Next Il nome del server è questo Andiamo su next Come ruolo andremo a mettere active directory Domain services Add features next 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 In realtà avrei dovuto prima installare il server DNS Perché è un requisito di domain controller Che deve essere anche un server DNS Però Si può anche evitare Perché lo installa lui Durante l'installazione Del ruolo domain controller Mentre fa questo Possiamo anche chiudere Andiamo sul local server Volevo disabilitare L'inestment security di Internet Explorer Quando chiudete Un'attività in corso Su server manager di aggiunta ruoli Potete sempre rieprirla da qua Pascal details E ritornate dove eravate prima Adesso in running Il task Completato Pare Installation succeeded Work folders Che sarebbe il server E dopodiché abbiamo il post deployment configuration Dobbiamo promuovere il server domain controller Quindi clicchiamo lì Andiamo su add new forest Metteremo Sistemista italiano .prv Facciamo un dominio privato Anche se poi Risponderà al dominio pubblico Ovviamente Poi vi farò vedere come Andiamo su next Ok La password di recupero servizi directory Possiamo mettere quella che vogliamo Questa serve solo Nel caso in cui Si debba entrare In modalità recovery Vedi se L'acted directory non funziona Adesso lui calcolerà il nome netbios del dominio Che poi non è altro che il dominio senza l'estensione Poi lo taglierà perché è troppo lungo Sistemista italiano Quindi lo taglia in Sistemista Italy Andiamo su next 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 ancora Farà il check dei prerequisiti Dove avremo i soliti alert ignorabili Allora questi alert sono ignorabili Il primo dice che ha una criptografia Diciamo Un'impostazione della security Che praticamente consente Alla criptografia Algo di compatibile con Windows NT E questo diciamo Può causare Dei problemi di sicurezza Ma È ignorabile Perché come vedete Non è Non è Diciamo Un prerequisito necessario Comunque potete andare A leggere maggiori informazioni A questo link Il secondo È un alert Che su Amazon È quasi Un Diciamo Inevitabile Perché Dice che l'IP Non è statico E sul domain controller L'IP deve essere statico Ma in realtà è statico Perché Amazon Una volta assegnato l'IP A una macchina Lascia sempre quello Parlo dell'IP privato Il terzo Che manca la delega DNS Ma questo Anche questo è ignorabile E comunque si può sempre Fare in mano successivamente Clicchiamo su install E aspettiamo L'installazione del dominio Ok Il dominio È stato esatto correttamente Lui adesso si riavvierà Ok Dopo riavvio Ci ricolleghiamo Al domain controller Eccoci qua E andiamo a installare Il ruolo che ci serve Quindi riapriamo Server manager Anzi Dovremmo fare Prima un'altra cosa Che ho dimenticato Di fare prima Scusatemi Quindi andiamo ad aprirci Innanzitutto Un MMC Andiamo ad aggiungere Tutti gli snap in Che ci servono Quindi Active Electrovisore In computers Certificati Ci potrebbe servire Disk management Perché dobbiamo Formattare il disco D DNS Non ci serve Ma lo mettiamo Event viewer Poi mettiamo I servizi E mettiamo anche Sharefolder Ci potrebbe servire Andiamo su ok Questa la salviamo Questa console Sul desktop Dopodiché andiamo Sul disk management Andiamo a inizializzare Il disco D Dove andremo a mettere La cartella Di condivisione Nuovo volume Semplice Gli diamo Un'etichetta E la chiameremo Come vogliamo noi Per esempio Data Finish Dopodiché Andiamo ad aprire Il disco D Qui creiamo Una cartella Che la chiameremo Work Folders Potete chiamarla Come volete Però io ho preferito Chiamarla così Poi andiamo a creare Due utenti Uno sarà Mario Rossi M.rossi Chiocciola Scusate Non chiocciola Next Password Zero Password Zero Ovviamente Non Imitate Le mie password Un altro utente Mario Bianchi M.bianchi Password Zero Ok Andiamo su Next Finish Poi facciamo Un gruppo Perché noi daremo Ovviamente Creeremo un gruppo Che possiamo chiamarlo Come vogliamo Anche in questo caso Lo chiameremo Work Folders Per non sbagliarci Un gruppo Mi raccomando Di sicurezza Globale Quindi Per tutto il dominio Per tutta la foresta E un gruppo Di sicurezza Non di distribuzione In questo gruppo Andiamo a mettere I due membri Quindi M.rossi E vado a fare Check names Ok Fatto questo Clicchiamo su ok I gruppi Gli utenti Li abbiamo creati Salviamo la console Qui Abbiamo fatto La cartella Work Folders Andiamo a fare Una condivisione Di questa cartella Quindi proprietà Andiamo a fare Sharing Advanced Sharing Share this folder Lasciamo il nome Che mette lui E andiamo a mettere Full control Ovviamente solo ad everyone E invece Nella configurazione Di security Andiamo a mettere Soltanto Il gruppo Work Folders Il gruppo di dominio Ovviamente Eccolo qua E sarà anche questo Full control Users In questo caso Lo potremmo anche rimuovere Però Prima dovremmo Togliere La L'ereditarietà Perché altrimenti Non ce lo fa rimuovere Comunque Lo possiamo lasciare Tanto è solo lettura Sappiate che lo potete rimuovere Lasciate solo gli amministratori E Work Fold E il gruppo Work Folders Chiudiamo A questo punto Facciamo un altro riavvio Perché ho notato Che A parte che No Potevamo anche evitare Perché il ruolo Non l'avevamo installato Però ho notato Che il ruolo Work Folder Un altro installato Tutte le nuove Condivisioni Devo riavviare il server Perché anche riaviando Il servizio Lui non le vedeva Io ovviamente Vi faccio vedere Tutti gli step Che sono funzionanti Al 100% Perché altrimenti Poi qualcosa Può non funzionare E invece In questo modo Funziona tutto Come vi dicevo prima Noi faremo funzionare Il nostro server Work Folder All'esterno Del domino Quindi su internet Grazie a un record DNS In realtà non ve l'ho detto prima Però lo facciamo funzionare Che risponda a un dominio pubblico Quindi sistemistataliano.it Per fare questo Deve esistere un record DNS Nella zona sistemistataliano.it Che io oggi non vi faccio vedere Perché ve l'ho fatto vedere Già in altri video Comunque è sufficiente andare Nella gestione DNS Del dominio pubblico Aggiungere un record A Che si chiamerà Work Folders Poi chiaramente il dominio è automatico E mettere indirizzo IP pubblico Del server Che offre questo servizio Ovviamente il server deve essere esposto Deve avere un IP pubblico O comunque deve essere Nattato dal router E ci deve essere la porta aperta La 443 Che è la porta su cui funziona Work Folders Non mi pare che ci siano altre porte Necessarie Andiamo a vedere Dovrebbe essere necessaria Solo la 80 e la 443 Se ho sbagliato qualcosa Poi me lo direte nei commenti Ma non credo Perché dovrebbero essere Solo queste due Ovviamente per farlo funzionare Su un dominio pubblico In 443 ci vuole il certificato Io il certificato Di sistemistataliano Ce l'ho In formato star Quindi funziona Su qualunque dominio Di terzo livello Se non sapete Che cosa significa Andatemi a vedere Il video precedente a questo Dove lo spiego E quindi dobbiamo Semplicemente importarlo Sulla macchina Quindi innanzitutto Ricolleghiamoci al server Ok ci siamo ricollegati Andiamo a prendere Il certificato E lo vado a incollare Dentro la macchina Certificati su Windows Devono essere in PFX Quindi il formato Che include Sia il certificato Che la chiave Anche qui esiste Già un video Che spiega Come farlo Quindi prendo Il certificato Che è un PFX E lo vado a mettere Sul server Eccolo qua Questo è il PFX Che ha Wildcard Ora andiamo Sul server manager Andiamo a mettere Andiamo a installare Il ruolo Workfolders Quindi andiamo a fare Aggiungi ruolo Aspettiamo che finisce Next 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 Andiamo a mettere In italiano Sarà Workfolders Noi invece In italiano Scusate Sarà cartelle di lavoro Qui invece Avremo workfolders E sta sotto File and storage services File and nice Casi services E clicchiamo su workfolders Inoltre andiamo a mettere Anche Web server IIS Che ci potrebbe servire Andiamo su next 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 Installa Quindi ripeto Sulla zona DNS Del dominio Dove volete Al quale volete Che risponda Il server workfolder Ovviamente Deve essere un dominio pubblico Perché altrimenti Non ha senso di esistere Workfolders Ok? Perché quello serve Per far funzionare Le cartelle di lavoro Anche fuori dalla rete Aziendale A meno che non vogliate Usare sempre una VPN Ma a quel punto Uno usa Samba Share Non avrebbe senso Workfolders Quindi detto questo Create un record A Nella zona DNS Che ha il nome Che volete voi Conviene mettere Workfolders Perché Diciamo Lo consiglia anche Microsoft Perché così può funzionare Anche Non solo mettendo La URL Ma anche l'email Poi vi farò vedere Che cosa significa Ovviamente L'IP deve essere Quello del server Che offre il servizio E poi nel server Dovete installare Il certificato Adesso vi faccio vedere Come si fa Allora Il ruolo è stato installato Clicchiamo su Close E vi compare Qui nel server manager Il nuovo ruolo Workfolders Qui andiamo a fare Cliccare su Create Async share Quindi andiamo a cliccare qui Andiamo su next Come vedete lui Già ci propone Le share esistenti Quindi noi scegliamo Quella che abbiamo creato prima Workfolders Andiamo su next Questo user alias O user alias Chioccia domain Questo serve Se voi avete più domini Nella stessa foresta E volete distinguere Gli utenti In base al dominio In questo caso Lui che cosa farà? In questo modo Lui metterà Accanto alla cartella Di quell'utente Nel nome della cartella Anche la chiocciola E il dominio In modo tale Che se l'utente Ha più cartelle In più domini Sono distinte Nel nostro caso Che abbiamo un unico dominio Usiamo solo user alias Andiamo su next Questo è il nome Che vogliamo dare Al sync share Quindi il nome Che vogliamo dare Alla share Di sincronizzazione Andiamo ancora su next Qui dobbiamo aggiungere Chi può accedere Alle workfolders E metteremo il gruppo Workfolders Che abbiamo creato prima Check names E ok E ci compare Come vedete Il dominio E il gruppo Andate su next Qui potete scegliere Se volete anche Criptare le cartelle E Diciamo Obbligare l'utente A mettere una password Per il blocco a schermo Qualora non ce l'aveste Parliamo di qualsiasi utente Che da remoto Si collega alle workfolders Io Vi consiglio di mettere Tutte e due Noi per oggi Metteremo solo Lock screen Andiamo su next Andiamo su create Ci ha dato un errore Ok Questo errore è colpa mia Perché io ho installato Anche IIS Che va in conflitto Sulla porta 443 Di workfolder L'ho installato solo Per avere il tool E quindi bisogna Innanzitutto stoppare IIS Quindi su Internet Information Services Che è uno snap in Che si aggiunge qui Cliccate su default website E cliccate su stop Dopodiché dovete andare Nei servizi E riavviare Workfolder Questo errore L'ho fatto apposta Perché Proprio la persona Che mi ha chiesto il video Dice che arrivava alla fine E gli dava un errore Potrebbe essere questo Il problema Quindi andiamo Come vedete Vedete Windows sync share Che sarebbe workfolders Non è startato il servizio Quindi adesso facciamo start E dovrebbe partire correttamente Perché non c'è più IIS In esecuzione Quindi ripetiamo la procedura Andiamo su close Next Workfolders Next User alias Next Next Qui metteremo il gruppo Workfolders Next Lasciamo soltanto Automatically lock screen Nelle quale password Next Create E a questo punto Abbiamo avuto un success In realtà adesso Workfolder è già pronto Potremmo già provarlo A meno che Non ci sia da importare Il certificato Però prima Vediamo cosa succede Se non lo importiamo Ok Andiamo Sul client Andiamo ad aprire Cartelle di lavoro Questo è in italiano Quindi basta cliccare qui Installa cartelle di lavoro Come vedete Potete mettere All email Oppure Cliccando su Immetti una urla Di cartelle di lavoro Allora l'email Come dicevo serve Potete mettere anche l'email Però Diciamo Deve esistere Quel record DNS Di cui parlavo Workfolders Nella vostra zona IT O com In base al dominio Altrimenti Lui non riesce A risolvere il dominio Clicchiamo su Invece Metti la urla Metteremo HTTPS Due punti Slash Workfolders Punto Sistemista Italiano Punto it Questa adesso La copiamo Perché Ce l'abbiamo qui Andiamo su avanti E sicuramente Avremo un errore Come vedete È Connessione a serve Interrotta In modo anomalo Potreste anche Ricevere un altro errore Ovvero che Il certificato SSL Non Non c'è Questo perché Non abbiamo installato Il certificato Quindi andiamo Sul server Adesso Eccolo qua E andiamo Ad aprire Internet Information Services IIS Clicchiamo Su La route principale Sotto Start page E clicchiamo Su Server certificate Andiamo a fare Importa Andiamo a sceglierci Il certificato Che abbiamo copiato Prima che è sul desktop Andiamo a mettere La password Questa è la password Che avete generato Quando avete creato Il pfx Ripeto Non vi faccio vedere Come si crea il pfx Perché ho già fatto Di video che lo spiegano Lasciate Come store Il personal E lasciate All out Di certificate To be expired E cliccate su ok A questo punto Il certificato Oltre a essere stato Importato nello store Dei certificati Che è quindi Qui dentro Lui l'ha anche Diciamo Rezo disponibile Su IIS A questo punto Andiamo su Default website Che anche se è stoppato Lo lasciamo stoppato Clicchiamo su Bindings Clicchiamo su add Mettiamo Qui HTTPS Lasceremo IP address All unassigned E qui metteremo Invece Tutto il L'URL Senza l'HTPS Quindi workfolders Punto Sistemista Italiano Punto It Lasciamo Sui certificati Andiamo a scegliere Quello che abbiamo Importato prima E clicchiamo su ok E poi close Non dobbiamo fare Nient'altro Torniamo sul client E semplicemente Clicchiamo di nuovo Su avanti Come vedete Lui adesso Ci chiede username Password Andiamo a mettere Il nome di un utente Che abbiamo creato prima All'inizio del video Che abbiamo messo Nel gruppo workfolders Che a sua volta È stato messo Tra le sync share Quando abbiamo installato Il ruolo di workfolders Mettiamo M.rossi E la password Quella dell'utente Che è la password 0 Come vedete Anche se sono fuori Dal dominio Io dovrei riuscire a entrare Forse è meglio Mettere il dominio Davanti Sistemista Ita E clicchiamo su ok Forse ho sbagliato Proviamo a non mettere Il dominio Perché forse Lo risolve da solo Infatti Sta cercando Eccola qua L'ha trovata E come vedete Andrà a mettere In C users Il nome dell'utente Workfolders Posso anche cambiarla Questa è la cartella locale Non la cartella remota La cartella remota Rimane dove avevamo messa noi Abbiata l'accesso Ai file su richieste In questo pc Scelta consigliata Andiamo su avanti Accetta questi criteri Lui ci dice che Il computer sarà configurato Per Per essere bloccato E avere una pasta o disblocco E verranno crittografate Le cartelle di lavoro Questo va bene Installiamo cartelle di lavoro Clicchiamo su sì E la sincronizzazione è avviata Quindi come vedete Adesso lui Oltre ad avermi aperto Le cartelle di lavoro Ha già aggiornato La dimensione disponibile Che ho sul server Sono 29 giga e 9 Ovviamente se io abilito le quote Posso anche Limitare per utente L'utilizzo del disco E mi dice L'ultima sincronizzazione Quando è stata fatta L'accesso su richiesta È abilitato E poi Se il dispositivo Dal quale mi collego Ha una sim Quindi in 4G Posso scegliere Se la sincronizzazione Deve avvenire anche Se c'è una connessione A consumo Per ora Lasciamo tutto così Andiamo nelle cartelle di lavoro Proviamo a creare Una cartella Qualsiasi Nuova cartella Per esempio Come vedete Già compare Nello stato L'icona di sincronizzazione Qui ci andiamo a mettere Un file di testo Ci scriviamo dentro Prova Lo salviamo Lo chiudiamo Lo rinominiamo pure Aspettiamo che vengano Sincronizzati Poi possiamo provare A vedere sul server Se effettivamente Il file È comparso Ovviamente Il server però C'è un piccolo problema Nel senso che Le cartelle condivise Sono di proprietà Del gruppo Dell'utente Quindi L'amministratore Come vedete Non ci farà entrare Ci dice Vedete Anche se clicchiamo Su continuo Ci dà errore Perché Soltanto l'utente Mro si può vedere Questa cartella Che è una questione Di sicurezza Giusto che sia così Io però Vado a fare Properties Vado a cambiare Questo lo faccio Solo a scopo dimostrativo Ma non lo dovete fare voi Su security Vado a fare Advanced E vado a cambiare L'owner E come owner Metto domain Anzi no Metto administrators Per sicurezza Anzi no Scusate Metto domain users Perché così Sia io Che l'utente Potranno accedere E Faccio Apply E nella security Vado a mettere Anche Il mio utente Administrator In questo caso Sono amministratore Mi do il controllo Completo E faccio Applica Continua E dovrei riuscire A entrare nella cartella Eccola qua La nuova cartella c'è Anche questa Ha lo stesso problema Ovviamente Non la vado ad aprire Perché vi fidate Dovrei fare tutto il lavoro Di nuovo Di aggiungere L'owner E i permessi Però qui dentro C'è sicuramente Quel file Ora siccome c'è gente Che non si fida Lo facciamo Quindi security Advanced Change Come proprietario Ho messo Il domain users Come ho fatto sopra In security In edit Vado ad aggiungere Il mio nome Administrator Check name Faccio applica Continua E c'è anche Il file di testo Prova Che non posso aprire Per lo stesso motivo Di prima Dovrei fare anche qua A meno che Il problema è che Questo file Non è mio Quindi non me lo farà aprire Quindi vado a cambiare Anche qua Security Security E adesso Dovremmo riuscire Ad aprirlo Eccolo qua E dentro C'è scritto Prova Quindi come avete visto Effettivamente L'uso delle work folder È molto semplice L'unica cosa Dovete stare attenti Con IIS Che è difficile Far coesistere Un web server Un web server E work folder Sullo stesso server È per questo Che io Generalmente Consiglio Un server dedicato Oppure un server Qualsiasi Perché non abbia Web server Ma di solito Un web server Fa solo quello Quindi Non Non è necessario Che ci sia Work folder E web server Nello stesso server Ok Detto questo Quindi possiamo andare Alla conclusione Eccoci qua Abbiamo visto Come Creare Un domain controller Su Windows server 2019 E come poi Abilitare Il ruolo Work folder Ripeto Bisogna stare attenti All'IIS L'importante È avere il certificato Caricato su IIS Anche se Il web server È giù Deve stare giù Perché altrimenti Va in conflitto Con la url Di work folders Come al solito Se avete domande O dubbi Scrivetemi nei commenti Vi invito a mettere Mi piace al video A condividere il video Iscrivervi al canale E a ricordarvi Che senza sistemisti L'informatica Non funziona Al prossimo video